Prima di tutto era la base della vita, prima, per il Salento. Si chiamava Oro del Salento, l'olio di oliva. Quindi tante famiglie vivevano con cento alberi, eri già una persona per bene, potevi sistemare tutto. Invece adesso il turismo è pure un fattore importante perché da verde, dall'ombra all'estate è molto bello come ambiente se le olive sono sane. E quindi se mancherà questo sarà proprio una cosa triste, ma triste veramente.